Scrivetevi per rimanere attenti, spero che potete piacere il mio video Ciao ragazzi e benvenuti in un altro video Sono un creatore di contento offensivo e ogni mese organizzo un giveaway Quindi sicuramente si suscritti al canale per partecipare Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.